Scudetto con 5 giornate d'anticipo però ci stiamo allenando non più come prima un pochettino con qualche giorno in più di riposo perché c'è qualche acciacco c'è un po' di stanchezza però i ragazzi in quei tre giorni insomma che abbiamo preparato il frusinone hanno messo una grandissima serietà poi stasera insomma abbiamo ho avuto ottime risposte da tutti Studio Mister buonasera, complimenti Buonasera Ancora una bella prova del gruppo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.